Colpo in pieno centro storico nella notte fra venerdì e sabato ai danni del bar Alexander in Corso Saffi, letteralmente a pochi passi da Piazza del Popolo. I ladri sono entrati nell'esercizio commerciale gestito ormai da tempo da una famiglia di origini cinesi sfondando la vetrata della porta del Corso. I loro obiettivi, secondo la ricostruzione della polizia intervenuta sul posto, sarebbero state le videolotteri. Per poter infatti uscire dal locale con le macchinette, la banda ha forzato anche la porta d'ingresso, riuscendo ad aprire, ma alla fine ha deciso di abbandonare il proprio bottino primario per una ragione ancora al vaglio degli investigatori e concentrarsi unicamente sul fondo cassa rimasto all'interno dell'occhio, dandosi poi ad una rapida fuga. L'intera scena potrebbe essere stata ripresa da alcune telecamere posizionate nel presso della piazza, ma non è detto che gli occhi elettronici siano riusciti a catturare qualche dettaglio importante per il proseguo delle indagini.